Eccola qui, davanti le telecamere di Raymovie, Margot, come stai? Bene, grazie. Social, World, Film, Festival, quale di queste quattro secondo te è un sacco di roba, è la parola fondamentale? Ovviamente social, nel senso che adesso dobbiamo veramente sentirci anche come Italia, un po' più vicini un agli altri.